Consegnati alla sezione avellinese dell'Associazione Nazionale dei Finanzieri d'Italia gli attestati di benemerenza per le attività svolte nell'ultimo quinquennio in campo sociale e civile. Alla cerimonia presenti tante fiamme gialle in pensione. Il prefetto Carlo Sessa e il sindaco di Avellino Paolo Foti, soddisfatto il presidente dell'Anfiavellino, Michele Gioia, cinque anni fa la sezione era commissariata e con pochi iscritti. Oggi è tra le prime in Italia. L'Associazione di Avellino ha conseguito ben 102 diplomi di merito prima dell'onoreficenza, due titoli di cavaliere. Abbiamo molti attestati dal vecchio prefetto Umberto Guidato, dal nuovo, dal comandante generale della Guardia di Finanza, dal comandante regionale della Guardia di Finanza, dal comandante provinciale, dalla compagnia e tanti altri attestati di merito che sono arrivati da enti locali della provincia di Avellino. Diciamo che questo è il coronamento certamente di un quinquennio a dir poco favoloso perché non si possono conseguire 102 diplomi di merito, 10 benemerenze nazionali e due titoli di cavaliere se non si lavora e seriamente. dimostrandolo perché io ho fatto delle relazioni a livello nazionale laddove ho spiegato tutto ciò che è stato fatto dai soci e da me in prima persona. Quindi mi frefiggo nel prossimo quinquennio, qualora dovesse uscire, di proseguire su questa strada e di ottenere maggiori risultati.